Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo. Questa è la faccia che tutti noi stavamo facendo oggi di fronte all'ennesima giornata di drammi per il Movistar Team. La Movistar non si smentisce mai e all'ultima tappa in linea dei Grand Tour del 2021 riesce a regalarci quella che sarà molto probabilmente la più grande perla della quale potremo vedere i backstage se dovesse uscire la terza stagione della serie. È il dia meno spensato, The least expected day. Una serie e una squadra che ci hanno regalato tantissime perle negli ultimi anni ma questa, questa forse è la più memorabile di tutte. Quest'oggi Miguel Angel Lopez, terzo classificato sul podio fino a ieri, vincitore della tappa resina della Vuelta proprio due giorni fa sull'Alto del Gamoniteru, la montagna più temibile della Spagna, senza avere alcun danno fisico o cadute o problemi meccanici, oggi si è ritirato. Perché? Andiamo a scoprirlo nel rewind della tappa più assurda di questa Vuelta. Oggi è successo veramente di tutto. È stata la tappa dei ribaltoni che ci si aspettava, anche se primo Shroglic non è stato toccato. Oggi per conformazione della tappa e per come ci siamo arrivati, c'era tutto il terreno per vedere del grande spettacolo ed essendo successa praticamente troppa roba, cercherò di fare un riassunto e di toccare solo i temi più importanti. Le cose che tralascerò le potremo discutere tutti insieme nella live di domani sera durante la cronometro. Siamo pronti? Sicuramente più della Movistar? Vai con Rewind. I meno 60 km all'arrivo ormai sono la nostra distanza preferita, sappiamo che dobbiamo accendere la televisione. Sul colle più duro della giornata, che però è il terzo ultimo di giornata, si mette a fare il ritmo, ancora una volta Pavellone Sivakov. E quando vediamo il mentone, il faccione del Pavellone, sappiamo che sta per succedere un gran macello. Qual è la cosa bella dell'ultima tappa IGT? Che le squadre sono distrutte. La Movistar è solo in 5, per esempio. Tanti dei corridori rimasti si staccano ai primi chilometri. È un casino della madonna. È per questo che c'è il terreno giusto. Ed eccoci qui, con la trenata della Damo ai meno 60. Prima della tappa, Ignos era quinta e sesta. Quinto Bernal, sesto Yates. E oggi praticamente ha deciso di scambiare questo quinto e sesto posto per un potenziale podio, che è un po' una strategia da fantagioco, tipo ti do la 5 e la 6 per la 3. Strappata importantissima, porta via già pochissime persone. Gino Meder inizialmente la subisce, ma Gino Meder ha due palle così, un motore così, un cuore così. E farà una tappa astronomica oggi. Davanti c'è una fuga di scalatori molto forti, all'interno della quale Mark Padun si incazza perché gli altri non tirano. Eh, però Marchino, tanto te fra un po' dovrai tornare indietro aiutare i tuoi compagni, quindi è inutile che fai tutta sta manfrina teatrale, lascia perdere. Gli altri stanno temporezzando perché è scappato Ryan Gibbons e nessuno gli dà credito praticamente. Quindi con Storer, Bardet, Champussan, tutti dentro e tutti con dei compagni ci sono molti tatticismi in atto. Dopo la trenata della Damo sono una dozzina in gruppo, si respira un attimo e riparte le ganito. Nessuno credo abbia capito se la Inos abbia effettivamente fatto bene a fare questi attacchi, ma sicuramente hanno offerto dello spettacolo per noi. Partega, lo seguono Jack Haig, Miguel Angel Lopez, ma è solo uno specchietto per le allodole in realtà, attenzione, perché le ganito si ferma dopo 100 metri e riparte sopra la Damo. Uno, due della Inos fanno la quick step e stavolta l'attacco è quello buono, quello vero. Ancora una volta gli salta sulla ruota Jack Haig il Giacomino veramente reattivo in queste fasi ed è stato il momento più importante della garra per lui questo. Solitamente non ha un gran cambio di ritmo, ma si è sforzato per seguire queste ruote degli Inos perché qui se te ne scappa anche solo uno poi tutto il boccino della situazione va nelle mani dei Bahrain e non è quello che vuole Jack Haig. Corridore molto lucido tatticamente. Stavolta riparte a inseguirli anche Primo che non vuole nessuna bega, fa praticamente il poliziotto già da qualche tappa e attenzione perché qua nasce il dramma Movistar. È quello che ci interessa. Siamo qua con i Popcorn, sono in cinque davanti Yates, Heig, Roglic, Mas e Gino Meder. Mentre dopo questo split dei due gruppi Miguel Angel Lopez rimane dietro a tirare il secondo gruppo. Eccolo qui con Bernal a ruota. Bernal sta sacrificando la sua top 5 e la sua maglia bianca solo per dare una chance ad Adam Yates di fare podio. Mentre il Michelangelo qui sta perdendo tutto quanto. Le ruote dei primi, il podio, i nervi, la testa, le gambe, le palle forse anche. E su questo Ginone Meder che prende la situazione in mano inizia a tirare giustamente ovviamente per il suo capitano Giacomino. Dietro nessuno e dico nessuno aiuterà mai per un metro Miguel Angel Lopez. Qua hanno già un 25 secondi. Nessuno di questi è interessato a seguire quelli davanti se non al limite Bernal ma ormai Bernal si è committato in questo ruolo di stop. E quello che sta avvenendo è il grande complotto di tutto il gruppo per metterne il sacco Mal. E molto velocemente seguiamo la successione del distacco fra i due gruppi. Dopo qualche chilometro di discesa siamo già un minuto e vediamo la differenza enorme tra i cinque davanti che spingo tantissimo sulle ali di Medar e i cinque dietro che se la scialano. In questo momento quasi tutti si stanno fermando per bere, mangiare, sciogliersi i muscoli, guardarsi un po' il paesaggio. Altri sette chilometri il gruppo Mal ha perso un altro minuto, siamo a due e in ogni singola inquadratura davanti c'è sempre sempre lui. Arriviamo al mare tratto di pianura questo sarà proprio devastante. Andiamo a due minuti e mezzo un chilometro dopo siamo a tre. Il gruppo dei più forti sta per raggiungere i fughisti e su questa immagine ho capito ufficialmente che era morta la volta di Mal. Siamo a oltre tre minuti e si guarda intorno si catteggia. Questo gruppo è stato recuperato da altri fughisti e gente random gente che non sarà mai vista per tutta la corsa e Lopez alla radiolina sta dicendo ragazzi io qua non ci posso fare proprio un cazzo di niente io ve lo dico non posso certo tirarmi dietro tutti questi per 60 chilometri soprattutto qua in pianura se provo a fare il ritmo non faccio altro che ammazzarmi e chissà cosa si sono detti qua con l'ammiraglia non ne abbiamo assolutamente idea ma da quel momento in poi per quel che ne sappiamo Mal potrebbe essere disperso da qualsiasi parte in queste splendide isole Miguel Angel Robinson Crusoe è totalmente sparito dai radar ovviamente la regia dopo quella scena di rilassamento generale ha iniziato ad ignorare quel gruppo che ormai qui era a quattro minuti ha tolto anche l'indicazione grafica le uniche notizie si arriveranno a Teledeporte che riesce a riprendere 20-30 secondi di questa scena di Lopez al telefono vicino all'ammiraglia e il team e qua è successo di tutto vi riporto quelle che sono state le voci giunteci appunto da gente che seguiva la corsa adentro e dalla tv spagnola ovviamente non posso sapere se sono vere non posso sapere se verranno smentite in futuro o se erano totalmente inventate intanto parliamo di quello che sappiamo quello che sappiamo è che prima Lopez ha minacciato di abbandonare la corsa poi Paccivila pare gli abbia urlato addosso di tutto pare abbiano provato a convincerlo per minuti e minuti e minuti a rimanere in gara non sappiamo la motivazione precisa per la quale lui non volesse più correre aveva comunque un sesto posto da onorare neanche tanto da difendere bastava arrivare in fondo anche prendendo mezz'ora dai primi comunque quelli dietro di lui in classifica erano tutti insieme a lui tolto Yates fatto sta che poi pare si fosse convinto a tornare in bici e invece alla fine si sia ritirato definitivamente ora mi son messo a fare la registrazione sperando che uscissero notizie definitive su questa storia prima che la finissi ma in realtà nel frattempo l'unica cosa che successe è questa la flambe rouge ci ha detto che a quanto pare la movistar non ha assolutamente idea di dove sia Lopez missing mal e tutto ciò è meravigliosamente popcornesco quelli della movistar sono i nostri fottutissimi idoli oggi una volta di più Lopez ha rifirmato con gli spagnoli per due anni subito prima dell'inizio della vuelta durante la vuelta deve lavorare un sacco di volte per Mas anche se gli viene permesso in generale di fare la sua corsa vince la tappa regina e all'ultimo giorno di gara scappa dalla squadra e non si trova più io non riesco neanche a immaginarmela una situazione più tragica per la gestione interna di una squadra anche perché tra l'altro credo che sia il loro corridore più pagato in assoluto se a livello di spogliatoio è una bomba atomica sta roba non vorrei assolutamente essere in questo momento nello spogliatoio della movistar no 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 aspetta vorrei assolutamente essere in questo momento nello spogliatoio della movistar grazie di esistere ah mi è arrivata una notizia giusto ora a quanto pare in realtà mal si era ritirato per il torcicollo che si era preso nella tappa l'altro giorno non so perché non ci avevo pensato fino a questo momento ma me l'ha giustamente segnalato il follower su instagram paolo gran perla ah ma c'era anche una corsa di cui parlare e uno dice vabbè dopo quello che è successo con la movistar non se ne fregava più niente ma non è vero è successo di tutto oggi veramente e il finale è stato assurdo c'era gibos davanti a tutti da solo da decine di chilometri ma praticamente nessuno al mondo pensava sarebbe arrivato in fondo perché è praticamente uno sprinter e si sta frottando l'ultimo colle con questo splendido garage centrale mentre da dietro parte la damo in questo gpm finale adam yates ha cercato in ogni modo di staccare jack haig perché recuperando ancora diciamo una trentina ai secondi in classifica poi domani a crono ce la si gioca però il giacomino fa sempre buona guardia doveva riprendere roglitz oggi cattivissimo è andato a riprendere un po' chiunque eh ma dagli torto può vincere praticamente tutte le tappe perché non dovrebbe siamo sul tratto duro riparte il forcing della damo l'ultima rampa di garage di questa volta c'è un po' di lacrimuccia succede un paio di volte Heig rimane indietro dopo le sparate della damo ma poi ogni volta il ritmo cala è tutto uno strappo e stop strappo e stop e abbiamo in questo finale pirotecnico la fortuna di assistere a questo attacco inelastico di michael biscarra biscarra Euskal Teleuskadi assolutamente uno degli idoli storici della Vuelta il ritmo è così basso che oltre a riuscire a partire biscarra che già è un'ottima cartina tornasole voglio dire ci sono alcuni ex fughisti che rientrano su questo gruppo addirittura tra cui tra l'altro anche Zinone Meder che dopo aver fatto il ritmo per un sacco di chilometri si era staccato ma qua torna per andare a prendersi sto quinto posto roglitz si rompe le palle tira una trenata tanto per e biscarra in un amen passa dall'essere davanti a questo gruppetto all'essere dietro I'm sorry di nuovo hey che rimane indietro e poi però torna con i migliori grande fondo grande resistenza ancora una volta grande gestione di se stesso e poi qua attenzione 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 l'attacco di Enric Mas wow roglitz lo guarda tipo lui si è girato letteralmente due pedalate dopo non sto esagerando non è per fare il coglione ha messo il rapporto duro ha fatto la prima pedalata ha fatto la seconda pedalata e si è girato non li aveva neanche sorpassati erano ancora di fianco e dopo questo poderoso attacco di 3 metri vattaggio massimo raggiunto 322 si gira per una seconda volta nell'arco di 14 metri e si è fatto pure asfaltare da Gibbons che gli è ripartito dietro e lasciato lì mamma mia Enrico ovviamente dopo questi attacchi ci si riappalla e momento biscarra parte seconda non ci credo sto volando su Marte qui l'Adamo ha provato a farla furbata a ripartirgli sopra ma comunque alla fine a 1,8 km dall'ultima vetta della vuelta sono i 4 più forti i primi 4 in classifica generale a presentarsi insieme Adamo Enrico Giacomo sarebbe primo il corrispettivo di primo asci in italiano giusto pocci pocci po 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 nome nome quando ecco che totalmente dal nulla sbuca da dietro Clément Champussin urlando come un pazzo si sparerà gli ultimi 1700 metri urlando perché molto probabilmente era spuntato dal pubblico era uno del pubblico ha fatto tipo Aldo quando sbuca fuori dalla sabbia ed è partito seco bellissimo mentre gli altri erano proprio totalmente fermi ad aspettare il muretto finale e stavolta Roglic non è andato a riprenderlo non saprei neanche dire il preciso perché forse non voleva offrire la scia agli altri e poi le facce del Clemente qua mi ha ricordato tantissimo Giallini quando fa Girardengo in Boris qua mi ha ricordato Leonida di 300 questo è spagna mi bruciano le gambe l'ultimo regalo della vuelta per tutti noi l'ultimo finto scatto dell'Enrico qua siamo su un tratto in falso piano poi c'è una discesa e poi lo strappo finale lui dove parte prima della discesa e niente devo anche dire cosa è successo cioè che si è girato bla 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 che l'ha ripreso 20 metri dopo bla 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 grazie di esistere Movistar grazie di esistere Enrico grazie di esistere tutti quanti vi voglio bene ok ce l'ho fatta ho fatto una roba senza senso un gran figo il Clemente poche volte ho visto qualcuno sfruttare l'attimo come lui oggi aveva non so un ottantesimo di chance ed è riuscito a trasformarla in una vittoria ottimo prospetto da anni finalmente una meritatissima vittoria World Tour dietro ci sono distacchi molto ridotti Roglic ovviamente fa secondo e in questa vuelta ha fatto tre primi e quattro secondi posti ok classica vuelta di Roglic e domani vince ovviamente e il Ginone invece ha 22 anni è già lo psicologo del gruppo l'altro giorno si è complimentato con Bernal appena arrivati oggi lungo abbraccio a Gibbons che avrebbe portato una vittoria incredibile storica al Sudafrica ma l'unica cosa che si porterà a casa saranno i complimentoni del Ginone che comunque valgono tanto io me li prenderei volentieri sinceramente e da cosa si capisce che la ventesima tappa di un Grand Tour è il fatto che alcuni corridori mettono il piede a terra mentre arrivano alla fine sinceramente al Gamonitero una scena così non l'ho mica vista questa è una classifica alquanto diversa a quella che avevamo visto fino a ieri è sparito totalmente Lopez chi sia stato non si sa Gietze quarto a un minuto secco da Haig mi sembra un pochino troppo per recuperarlo e l'ultima crono sinceramente a differenza di tanti altri ho apprezzato il tentativo Ineos di comunque provare a far qualcosa di molto aggressivo per cercare il podio bastava che Haig perdesse un attimo di momentum da qualche parte e avevamo fatto un capolavoro assurdo poi vai a vedere perdo la maglia bianca e la top 5 di Bernal certo però dubito che Bernal avrebbe avuto la gamba per arrivare con quelli davanti oggi se ha agito così è leganito non è mica uno che passa di lì per caso dubito che lo usino come un gregario qualsiasi per queste e tantissime altre considerazioni che si possono fare su tutte le varie classifiche della vuelta sulle tappe su quello che ci pare vi mi ci rimando alla live di domani la crono è di sera quindi viene perfetto mi collegherò diciamo a un'ora e mezza o qualcosa del genere prima dell'ipotetica fine della crono così abbiamo spazio per parlare tranquillamente di tutti i temi che ci vengono in mente magari nel frattempo scopriremo che fine ha fatto il Michelangelo e poi ci guardiamo i migliori che arrivano nella durissima crono di domani che è tutto il contrario che una crono per specialisti non ho ancora deciso orario preciso seguitemi su instagram per tutti gli update magari nel frattempo ritroviamo lo stomale che qua passare da una storia di gag è una brutta storia ci vuole poco rispettiamo gli atleti se ti piace questa roba premi i tasti ci vediamo nei prossimi video ciao